Una nuova collettiva per la Galleria Paola Verrengia di Salerno che fino al 30 giugno ospiterà Is the Pink, Just a Color a cura di Chiara Guidi con opere di Carla Cardi, Gana Mer, Maria Magdalena Campos Pons, Elisabetta Catalano ed ancora Brun Esposito, Margherita Manzelli, Maria Elisabetta Novello, Ana Gloria Salve ed Amparo Sard. Artiste presenti nelle maggiori collezioni e musei internazionali. Un progetto che nasce dalla volontà di collegare con una sorta di linea rosa la presentazione del libro di Chiara Guidi, La rivoluzione siamo noi, con la mostra, con opere che sembrano accogliere il libro ridisegnandolo attraverso le esperienze visive. Una domanda nel titolo della rassegna ma anche un'affermazione e un'informazione proponendo un nuovo capitolo della storia dell'arte al femminile. Questa mostra nasce come una nuance cromatica a questo libro che è La rivoluzione siamo noi, una minuscola guida rosa alle donne rivoluzionarie di un secolo. In questa mostra c'è stata una selezione di artiste che sono andate da quella che è stata che attraverso il suo segno colore ha emancipato la pittura astratta che è Carla Cardi, ai ritratti della Catalano, ai ricami emancipatori di Gadamer, alla grande interpretazione delle performance di Maria Magdalena Campos. Così come è stato importantissimo il tratto che ha innescato Bruna Esposito con la ricerca della spiritualità. Questa è un'opera che ho fatto appositamente per questa mostra perché sono stata convolta e onorata di partecipare a questo progetto che si chiama La rivoluzione. La rivoluzione siamo noi di base, questo è il nome, siamo noi donne, questa è una specie di Gesù donna al femminile, una minerva, un angelo, quello che vogliamo. Porta una sfera trasparente che ripresenta l'infinito, l'universo, è una versione analogica un po' del Salvatore Mundi di Leonardo. Grazie. Grazie. Grazie.